Ciberbullismo e presenza lucana all'Expo 2015 sono i temi scelti dagli studenti dell'Istituto Professionale Servizi per l'Eno Gastronomia e l'Ospitalità Alberghiera di Marconia per esercitare il proprio estro giornalistico nell'ambito del progetto Giovani Informati, promosso dal Consiglio regionale per portare l'informazione locale nelle scuole. Nei loro articoli pubblicati nel giornale online in retroscena hanno raccontato i pericoli della rete del ciberbullismo e alla vigilia della inaugurazione del padiglione Basilicata all'Expo di Milano si sono soffermati sui temi dell'alimentazione rivisitando alcune ricette tipiche in chiave moderna e analizzandole dal punto di vista nutrizionale. A rispondere alle loro domande il consigliere regionale Nicola Benedetto e il presidente dell'associazione Il Cielo nella Stanza Nino Cutro presenti all'incontro di oggi con il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore di Marconia Francesco Di Tursi. È stata un'opportunità notevole che la regione Basilicata ha dato a noi operatori, a noi docenti e anche agli studenti delle nostre classi per cui abbiamo migliorato sicuramente molto perché noi facciamo il giornale da tanti anni ma sicuramente l'aiuto di un tutor ci ha permesso di affinare le nostre tecniche giornalistiche.